Ciao, sono Francesco Di Santo e se sei veramente interessato a imparare a suonare il pianoforte allora ti chiedo di prestare un attimo di attenzione a questo video, di spegnere la televisione, di spegnere i social, di silenziare il tuo smartphone, di togliere qualsiasi tipo di distrazione per qualche minuto. E prima di continuare la lettura di questa pagina, di stare a sentire quello che ti mostrerò adesso perché si tratta di cose veramente importanti. Detto questo, iniziamo subito a vedere un attimo nei dettagli in cosa consiste questa opportunità di imparare il pianoforte online. Ok, ci troviamo all'interno della stessa pagina in cui stai vedendo il video in questo momento e adesso ti andrò a spiegare più nei dettagli alcune cose molto importanti, fermo restando che poi, soprattutto se sei una persona a cui piace leggere, ti consiglio di dare con calma una letta a tutta questa pagina qui che adesso ti vado ad illustrare un pochino più velocemente. Dunque, tanto per cominciare voglio presentarmi un attimo, non per fare lo sbrone per carità, ma per farti capire perché dovresti darmi letta. Io mi chiamo Francesco Di Santo, sono musicista e insegnante di pianoforte a tempo pieno. Per la verità ho cominciato a studiare pianoforte da autodidatta verso gli 11 anni e dopo un anno mi iscrissi al Conservatorio di Benevento dove mi sono diplomato col Massimo Devoti e la Lode e ho fatto molte esperienze in campo musicale, avendo all'attivo circa 300 concerti tenuto come pianista solista. Ecco, ma un'altra attività che mi piace molto è accompagnare al pianoforte i cantanti e i musicisti come i violinisti, clarinettisti, eccetera. Questa è una delle magie del pianoforte perché non è solo uno strumento a sé stante ma talvolta si mette a servizio di altri musicisti che hanno bisogno dell'accompagnamento ritmico per sostenerli. Un'altra cosa per cui vado pazzo è comporre, ho scritto molti pezzi per pianoforte e non solo, e infatti ho inciso anche alcuni cd. Detto questo, volevo mostrarti subito questa parte della pagina in cui dico di essere in grado di insegnarti il pianoforte senza patire i classici problemi dell'andare a tempo quando si suona, senza il rischio di avere problemi nel suonare a due mani, senza cascare nei classici fastidi ai muscoli delle mani, polsi e braccia di cui spesso soffrono i principianti. E in particolare ti mostrerò come puoi apprendere in modo veloce, molto veloce, anche nel caso tu abbia un'età, diciamo, veterana. Ecco, perché dico questo? Beh, perché in effetti il pianoforte non è uno strumento molto intuitivo, soprattutto quando si è chiamati a suonare a due mani perché una mano fa una cosa e l'altra mano ne fa un'altra completamente diversa, per cui c'è bisogno di un metodo efficace per apprendere divertendosi il più possibile. E infatti qui continuo, eppure per me nei primi tempi fu difficile cominciare a studiare da solo, mi spiego meglio, fino a quando suonavo con una sola mano le cose andavano per il verso giusto. Il problema è che essendo il pianoforte uno strumento poco intuitivo, quando sei all'inizio ti assalgono un casino di dubbi tipo forse tardi per imparare, era meglio se cominciavo sin da piccolo, oppure non so da dove iniziare, non so che tasti premere e dove posizionare la mano, oppure cavolo, è difficile suonare con entrambe le mani. Insomma, problemi che per me erano in quel momento come una montagna troppo grande da scalare, anche perché non avendo altri appigli, all'epoca non avevo neanche internet, cercavo di capire la musica attraverso i libri di scuola e con l'aiuto di alcuni manuali didattici per studiare il pianoforte dato didatta. Ecco, ma è veramente difficile imparare a suonare il pianoforte dato didatta e anche un po' strano e difficile farlo da soli senza la guida di qualcuno che ci spiega bene, ci toglie dubbi, ci dice quando facciamo errori, eccetera. E allora, oltre ad essere spesato, ero anche frustrato. E questa frustrazione aumentava col tempo perché dicevo a me stesso Peccato che adesso non posso permettermi di andare a lezioni. Mannaggia, non riesco ad andare a tempo. Ho difficoltà a leggere le note e a riprodurle sulla tastiera. Oppure, di musica classica non ne capisco un piffero. Meglio che comincio con le canzoni pop. Insomma, non capivo il perché di questi problemi che avevo nel suonare e nell'andare al tempo e non capivo per quale motivo a volte le avevo e altre volte no. Per cui la paura di deludere le aspettative del mio sogno mi faceva sentire sempre più insicuro. Mi dicevo, forse non sono portato. Ma poi accadde che, ecco, dopo averci messo tanto impegno, com'è, com'è non è, riuscii ad imparare il mio primo brano a due mani dopo averci sbattuto alla testa per quattro mesi. Quindi, da lì mi sbloccai e il mio percorso cominciò a prendere il volo. Ecco, da solo ero riuscito a trovare la soluzione per liberare finalmente il mio talento musicale. E infatti già a 13 anni suonavo pezzi difficili e componevo le mie prime sinfonie. Però, attenzione, io posso dire che avevo dalla mia un talento naturale e innato, ma la maggior parte delle persone non ha questo talento e quindi la formula magica per imparare il pianoforte da autodidatta non la trovano né in quattro mesi né in quattro anni e forse da soli non basterebbe una vita. Eppure si può imparare da soli, perché tutti possono imparare il pianoforte, anche chi non ha un talento naturale, a patto però di affidarci ad un metodo sicuro che ci aiuti a portare a casa il risultato giorno per giorno. Perché, diciamoci la verità, senza una guida sicura che ci insegni le cose non si va da nessuna parte. Su questo non si scappa. Ed io aggiungo, al contrario di altre persone, non vendo specchio per la lodole. Perché conosco bene i metodi che funzionano, veramente quelli che sono completamente inutili è una perdita di tempo. E infatti, in questa parte qui, ti metto in guardia da tutti quei sistemi per imparare il pianoforte che trovi là fuori, che quando non sono delle vere e proprie truffe rischiano di essere molto complessi e assolutamente non alla portata di chi inizia. Ecco perché i libri e piano tutorial di guru che vedi in YouTube sono inutili. Ecco, adesso magari tu direi, ma come? Tu stesso proponi dei tutorial per insegnare il pianoforte e dici che in YouTube sono inutili? Beh, guarda, certamente perché il tutorial che mostra senza spiegare, quindi invita ad imitare senza stimolare attivamente il pensiero musicale e motorio dell'allievo, è un apprendimento passivo, lento, pesante e quindi impedisce all'allievo di acquisire quelle abilità e competenze che gli dovrebbero consentire autonomia in ordine alla lettura delle note e all'apprendimento della tecnica e di nuove musiche da suonare. E, dulcis in fundo, molto spesso in questi tutorial non ti viene data neanche la possibilità di scaricare lo spartito. Ora dimmi, che senso ha se tu mi fai un piano tutorial in cui mi fai vedere nota per nota i tasti da premere e poi mi impedisci di avere un quadro d'insieme e dandomi lo spartito intero del brano da imparare così che possa leggerlo e studiarlo da solo e in piena autonomia senza stare ore su YouTube. Che senso ha? Non lo so, dimmelo tu. Per questo, nessun video tutorial è in grado di insegnarti il pianoforte se non include anche lo spartito. Nessun video tutorial è in grado di farti capire come andare a tempo se non ti fa esercitare in modo mirato fino a stimolare il tuo ritmo interno. Nessun video tutorial è in grado di insegnarti qualcosa quando non è inserito all'interno di un percorso strutturato e progressivo. Nessun video tutorial potrà mai portarti ad un livello avanzato e professionale. Come se non bastasse nessun libro è efficace senza l'esempio vivo dal vivo. Nessun libro potrà mai risponderti quando hai un dubbio. Nessun libro ti può dare gli strumenti per autocorreggerti quando sbagli. Nessun libro potrà mai insegnare l'arte dell'improvvisazione al principiante che non ha le basi delle note e del ritmo. Ecco, come puoi vedere tutti questi punti non hanno bisogno di spiegazione. Però, però, andiamo avanti. Ecco, in questa parte qui ti metto ancora in guardia da tutti quegli altri sistemi per imparare il pianoforte o meglio per non imparare il pianoforte che quando non sono delle truffe comunque rischiano di essere molto complessi e assolutamente non alla portata di chinizia come per esempio le app. Ecco, sulle app voglio farti vedere questo video. Ecco, app del genere per come vengono presentate sembrano divertentissime e miracolose. Insomma, sembra che sia tutto facile. in realtà ti garantisco che questo è il modo peggiore di apprendere il pianoforte e il motivo lo spiego in questa parte perché nessun'app si dimostra utile ai fini dell'apprendimento perché l'app è una macchina e quindi alla prima difficoltà il principiante si blocca e non sa come andare avanti perché di certo non puoi chiedere aiuto dialogando con una macchina. ed io aggiungo anche per un altro motivo che queste app non ti permettono di capire dove caspita devi posizionare la mano e soprattutto con quale dita vanno abbassati i tasti ragion per cui nessuna grafica multimediale potrà mai sostituire l'efficacia dell'esempio umano di una mano umana. attenzione anche agli abbonamenti premium abbonamenti premium ad aree riservate per seguire video tutorial generici non targettizzati per un determinato livello di apprendimento per cui insomma tu ti iscrivi a questi abbonamenti paghi un bel po' di denaro per totto mesi per avere in cambio dei video tutorial che sono fuori dalla tua portata quindi completamente inadatti al tuo livello di apprendimento e soprattutto software pieni di grafica che disparano barrette colorate che scendono a velocità a razzo su di una tastiera virtuale. Ecco su questo punto vorrei formarmi un attimino perché una roba del genere è completamente inadatta a chi già suona decentemente figuriamoci per chi deve iniziare ad imparare il pianoforte cioè è totalmente inadatto per chi ha le prime almi questo perché detto in poche parole tutti i pianisti quindi non solo chi inizia ma proprio tutti i pianisti per apprendere un brano devono sapere capire come e dove posizionare la mano definendo una diteggiatura corretta quindi quali dita devono essere utilizzate in un determinato passaggio e da lì comprendere attivamente il gesto tecnico da compiere. Ora io ti domando a te mi spieghi come è possibile imparare il pianoforte serenamente decentemente in modo professionale mediante un orrore del genere cioè guarda non si capisce niente c'è da impazzire non si danno informazioni sulla dinamica forte o piano da tenere e soprattutto è assente l'apprendimento del ritmo questi sistemi truffe sono delle vere schifezze e non capisco proprio per quali motivi abbiano tante visualizzazioni e tanti follower che seguono queste immondizie pseudodidattiche bah chi lo sa poi scrollando in basso queste sono tutte cose che ti puoi leggere tranquillamente da solo magari ecco prenditi un attimo di tempo dopo che hai visto questo video per leggere attentamente questa pagina perché sicuramente ne vale la pena in quanto magari anche se deciderai che il pianoforte non fa per te però ecco sicuramente come minimo ti sarei fatto un po' di cultura tra virgolette in questo ambito e sicuramente saprai distinguere le cose che in musica funzionano dalle bufale però una cosa a questo punto va detta che ad un certo punto del mio percorso musicale trovavo sempre più persone di una certa età che mi chiedevano cose del tipo non conosco la musica come faccio a partire da zero ora che ho ben 63 anni e ti dico che ogni volta questi aspiranti pianisti mi parlavano con un tono dimesso come se si vergognassero di chiedere di prendere lezioni di pianoforte in tarda età quasi partissero già scoraggiati sentendosi troppo vecchi per avviarsi ad uno strumento musicale ma è un errore colossale e certo perché la gente crede che esista un'età giusta per fare ogni cosa un'età per sposarsi un'età per innamorarsi un'età per praticare uno sport un'età per iscriversi all'università un'età per imparare a ballare un'età per imparare a suonare eccetera 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 ora non so come la pensi tu ma secondo me nella vita nulla è prestabilito in modo rigido nulla ci è precluso e se vogliamo dirla tutta fare musica aumenta il benessere psicofisico e questo vale per tutti e per tutte le età e allora dimmi tu come potevo dimostrare a tutte queste persone che in realtà l'età giusta per iniziare a suonare il pianoforte è sempre sì hai capito bene è sempre l'età giusta per iniziare a suonare e insomma quindi ad un certo punto del mio percorso io ormai ero già pluridiplomato al conservatorio avevo ottenuto numerosi concerti e impartivo regolarmente lezioni di pianoforte nel mio studio sebbene continuavo a ricevere richieste da persone che abitavano lontano da me e da gente di età avanzata per cui spostarsi per andare a seguire la lezione dal vivo poteva essere un problema per loro per questo non sapendo come divulgare la mia più grande passione provavo un senso di rabbia mi sentivo con le mani legate perché volevo assolutamente rendermi utile trasferendo agli altri non solo gli insegnamenti giusti ma anche gli errori da non fare e allora per me la cosa era diventata frustrante il problema di raggiungere una platea di appassionati che fosse più ampia possibile così da poter trasmettere la mia passione e le mie conoscenze sembrava insormontabile avevo la sensazione che non avrei mai trovato una vera soluzione per insegnare in modo semplice il pianoforte a un vasto pubblico di appassionati ma poi il 14 dicembre del 2012 successe qualcosa ritrovai online dopo dopo diverso tempo un mio carissimo amico musicista e ne venne fuori una lunga e interessante chiacchierata durante la quale tornarono fuori antiche passioni comuni che io avevo lasciato ferme da parecchio tempo come l'informatica musicale e tutto quello che riguardava i video la loro realizzazione e il loro montaggio la chiacchierata che feci col mio amico fu sicuramente una svolta perché mi diede lo spunto per riprendere in mano una serie di tecniche per imparare il pianoforte esclusivamente online tramite dei video specifici che rendessero l'apprendimento accessibile a tutti lavoravo per questo obiettivo cercando di pensare cosa avrebbe potuto essermi veramente d'aiuto quando molti anni fa ragazzino speranzoso che ero cominciai a mettere le mani sul pianoforte sentendone tutta la sua magia insomma e quindi ho cominciato di mio a somministrare questi esercizi multimediali composti da me e notavo che mediamente dopo sole sette lezioni questi miei allievi erano in grado di suonare a due mani un pezzo di musica anzi volendo essere più precisi dopo meno di un mese questi allievi erano in grado di leggere agevolmente e in velocità le note passando con disinvoltura dalla chiave di violino alla chiave di basso dopo due mesi riuscivano a mantenere il ritmo con facilità suonando sia con un tempo lento che con un tempo veloce ecco però al netto di questa mia sfida vinta da insegnante quindi di aver insegnato il pianoforte se devo essere sincero la cosa che più mi ha lasciato soddisfatto è vedere queste persone veramente contente cioè appagate dal fatto che avevano finalmente raggiunto questo sogno che si portavano da tempo e infatti qui continuo la cosa più bella che avevo conquistato attraverso l'applicazione di questo metodo rivoluzionario non era solo il notevole miglioramento dei miei allievi infatto a livello di autostima ma anche la straordinaria gratificazione che vivevano per il fatto che avevano vinto la loro sfida di mettersi alla prova con qualcosa di nuovo soddisfacendo pienamente il loro desiderio di svagarsi di creare di accrescere notevolmente la propria vita per non parlare di quelli che finalmente potevano imparare da autodidatti a un prezzo basso visto e considerato che da tempo cercavano un modo per imparare a suonare il piano senza prendere lezioni private che di solito costano decisamente troppo fu così che nel 2014 inizia a diffondere online ad altri studenti quello che poi sarebbe diventato il primo e unico metodo in assoluto per imparare il pianoforte in modo semplice e veloce comodamente da casa il follow and play sì l'ho chiamato così perché dà abbastanza l'idea del gioco che si innesca tra l'insegnante virtuale e studente e tra studente e lo strumento quindi della dinamica del guarda segue me suona per imitazione ecco ma che cos'è esattamente il metodo follow and play è il primo e unico metodo per imparare in modo semplice e veloce il pianoforte dato didatta follow and play è l'unico metodo che ti permette di imparare a suonare comodamente da casa tua in totale libertà con gli orari che preferisci tu e in base alle tue esigenze follow and play è il metodo leader dell'insegnamento del pianoforte in Italia anche per chi ha sempre poco tempo in quanto può imparare velocemente a leggere le note sul pentagramma e senza dover acquistare costosi e inutili libri di teoria follow and play è il metodo più specifico per eliminare i fastidiosi problemi di postura che si presentano quando tenti di suonare il pianoforte follow and play è il metodo preferito da tutte le persone che hanno già provato in passato con scarso o nullo successo le classiche lezioni di pianoforte follow and play è il metodo che riscatta tutte quelle persone che si sentono troppo vecchie per cominciare a imparare la musica follow and play è il metodo per eccellenza di chi vuole avere molte soddisfazioni con il pianoforte e di chi vuole divertirsi a suonare subito le canzoni e i brani preferiti di tutti i generi musicali dalla musica classica al pop rock follow and play è il metodo rivoluzionario per imparare ad andare a tempo e a suonare con entrambe le mani in modo intuitivo e immediato da cosa è composto follow and play il metodo follow and play è un corso di pianoforte online multimediale in formato audio video e pdf scaricabile da internet sul proprio computer tablet smartphone ipod e ipad ma è possibile anche salvarlo su qualunque supporto fisico come hard disk dvd chiavetta usb così da vederlo anche sul televisore di casa il corso follow and play è organizzato in 24 video lezioni contenute all'interno di 4 moduli della durata complessiva di 6 ore e 33 minuti poi ecco andando avanti qui trovi nel dettaglio tutte le componenti del metodo follow and play ecco una cosa importante che devi sapere io ti posso garantire che ci sono dei venditori sia all'estero che in italia che vendono corsi solo su una specifica parte di queste cose che ti farò vedere adesso per esempio ecco suoniamo andando a tempo col ritmo ecco ci sono corsi anche molto costosi dove ti spiegano solo questa cosa e non tutto il resto come invece io ti spiego all'interno del corso follow and play dunque andando nello specifico il primo modulo è intitolato impariamo le basi del pianoforte e come puoi vedere è composto da sette video e qui riuscirai ad approcciarti allo strumento in modo facile immediato orientandoti agevolmente sullo strumento imparare a leggere le note in chiave di violino di basso insieme ad assumere una corretta postura e ad articolare le dita con appositi esercizi invece il secondo modulo suoniamo andando a tempo col ritmo contiene cinque video e qui oltre ad imparare ad andare a tempo e ad usare il metronomo con degli esercizi speciali imparerai anche la tua prima canzone popolare non solo a due mani ma anche a quattro mani e infatti potrai esercitarti suonando il brano con me che ti accompagno con una base pianistica che ti porta il tempo sotto e questa è certamente una delle novità principali esclusiva del mio videocorso nel terzo modulo imparerai una musica romantica e attraverso i quattro video che contiene continuerai sempre le esercitazioni con allenamenti specifici che diventano via via sempre più difficili e scoprirai anche il significato dei segni di prolungamento del suono e come suonarli effettivamente infine il quarto modulo contiene ben otto video è una sorta di modulo diciamo rinforzato e qui hai la grande occasione di imparare il brano pianistico più famoso di tutti i tempi che è Perelisa di Beethoven ecco non a caso questo modulo è intitolato deliziamoci con Perelisa versione classica e dance ora ti starei chiedendo che cosa vuol dire versione classica e dance beh guarda è una cosa che devi assolutamente scoprire non ti anticipo nulla così non ti rovino l'effetto sorpresa però ti posso solo dire che sono sicuro che stupirà anche te guarda agli altri studenti ti assicuro che ha fatto molto molto piacere e in ogni caso sempre in questo stesso modulo avrai anche l'opportunità di imparare le scale e a suonare sui tasti neri detto questo ora a questo punto il corso sarebbe finito qui perché per iniziare ad imparare il pianoforte seriamente ti basterà seguire questi quattro moduli però ho voluto offrire ugualmente la possibilità di ricevere assieme ai video una serie di bonus che ti faranno da ulteriore supporto rendendoti più chiare ed agevole l'esperienza di apprendimento guarda sono tutti bonus con puro contenuto utile e di qualità ecco andiamo col primo che è l'ebook del metodo follow me play e che contiene tutti gli spartiti dei brani e degli esercizi che appaiono nel video così puoi seguire la musica semplicemente guardando col testo alla mano nel mentre che ascolti la lezione ovviamente se lo desideri potrei anche stamparlo per piazzarlo sull'eggio del tuo pianoforte poi il secondo bonus contiene ben 4 ebook dove trovi le trascrizioni di tutte le spiegazioni degli esempi a video dell'intero corso e quindi questi questi ebook ti saranno utili per avere il testo sotto mano nel caso ti sorga qualche dubbio su di una di un argomento specifico il bonus 3 come vedi è un cd in quanto trovi all'interno delle basi mp3 e due di queste si tratta di basi pianistiche quindi di accompagnamento al pianoforte suonate da me in cui tu potrai suonarci sopra così da poter fare dei veri e propri concerti a quattro mani virtuali e queste basi pianistiche riguardano il pezzo popolare che imparerai nel corso del secondo modulo e il pezzo romantico che imparerai nel terzo modulo e poi abbiamo anche la base mp3 di perelisa versione dense quindi base basso batteria e sintetizzatore ancora c'è anche un quarto bonus dove trovi una raccolta di pezzi brevi per pianoforte scritti da me e questi pezzi brevi composti da me rappresentano un rinforzo didattico che va ad ampliare il repertorio già proposto all'interno dei quattro moduli il livello tecnico di questi brani adatto perfettamente ai pianisti in erba sono molto richiabili e melodiosi e quindi possono essere apprezzati anche da un pubblico poco abituato ad ascoltare musica classica e ancora come se non bastasse riceverai anche un quinto bonus e questo è assolutamente fondamentale questo corso bonus perché si tratta dell'audio corso come si studia il pianoforte e massimizza le tue potenzialità infatti in questo audio corso mp3 avrai l'opportunità di conoscere i segreti della tecnica di come si suonano le dinamiche quindi il piano il mezzo forte il forte eccetera quindi i trucchi del mestiere per conquistare in pochi e semplici step l'interpretazione musicale i segreti per applicare un metodo di studio semplice efficace e razionale da me testato e come puoi ottimizzare i tempi di studio per imparare i brani più difficili e quindi insomma si tratta di contenuti veramente inediti di cui nessuno parla e quando lo ascolterai lo capirai bene anche da te e ancora non finisci qui perché c'è anche un sesto bonus che è la mia assistenza illimitata via mail per un anno ecco insomma in pratica nel momento in cui acquisti il corso hai questa ulteriore possibilità puoi contare sulla mia disponibilità ogni qual volta vorrai scrivermi per ricevere chiarimenti e per confrontarsi migliorando insieme quindi insomma io sono sempre a tua completa disposizione a differenza di tutti quegli inutili e banali metoducci in dvd e in ebook oppure nelle app dove nessuno ti segue e quindi sei in balia di se stessi ma qui no perché nel momento in cui acquisti il mio corso io ci sono e ci sarò sempre e ci puoi mettere la mano sul fuoco e se ancora non bastasse c'è pure un settimo bonus che è una lezione gratuita dal vivo in videoconferenza ho deciso di fare una cosa che normalmente non si fa aggiungere ad un corso multimediale off-online una lezione dal vivo di un'ora in questa lezione potrai farmi domande e ottenere risposte su tutti gli aspetti del corso nonché imparare ulteriori argomenti potrai richiedermela in qualsiasi momento anche se il mio consiglio è quello di visionare prima tutto il corso per poi fissare insieme un giorno per l'incontro per cui torno a ripeterti che io come vedi sono sempre presente e non abbandono mai nessun allievo però però ecco un altro concetto importante è che volume in play non è adatto a tutti ma solo a una categoria ben specifica di persone non è che per carità occorre essere dei laureati o degli scienziati perché stai tranquillo che non ti serve nessuna esperienza pregressa per poter cominciare a imparare il pianoforte però serve soprattutto un tipo di attitudine e qui dico chiaramente per chi adatto il corso volume in play ovvero se vuoi imparare a suonare il pianoforte in modo semplice e divertente se pensi che imparare il pianoforte sia troppo difficile per te se hai già provato a imparare il pianoforte ma senza successo e cerchi un nuovo sistema per riuscire finalmente a suonarlo se vuoi imparare comodamente da casa tua scegliendo il momento migliore per te se ti scoccia prendere la macchina o il bus per andare a lezioni di musica se ami la musica e la ritieni importante per te se non hai mai messo mano sul pianoforte prima d'ora e vuoi impararlo a suonare se vuoi imparare adeguatamente a suonare il pianoforte da autodidatta per sfiziarti con tutti i generi musicali dal classico al pop rock se il pianoforte è uno strumento che ti affascina molto e il suo suono ti incanta ogni volta che lo ascolti se ritieni che sia troppo tardi iniziare a suonare a 70 e passa anni se desideri svagarti nei momenti di relax con un'attività sana che ti metta alla prova costantemente così da potenziare la tua crescita personale se sei uno studente o appassionato di musica e di pianoforte e vuoi approfondire le tue conoscenze in materia per gli insegnanti di pianoforte che desiderano integrare questa metodologia a quelle tradizionali che usano con i propri alevi in erba ecco andando giù in questa parte qui che puoi leggerti da solo troverai delle testimonianze reali di coloro che hanno imparato il pianoforte grazie al metodo following play e ti posso garantire che queste testimonianze sono reali in quanto puoi trovare la foto del testimonial nome cognome e anche addirittura città di residenza e questo vale per tutte le persone che sono qui insomma questa gente non me la sono inventata e non sono neanche amici o vicini di casa perché sono persone che provengono da tutte le parti d'Italia a nord centro e sud e infine ti ricordo che il metodo following play equivale a 6 mesi di lezioni dal vivo ed è estremamente economico anzi facciamo un attimo due conti calcolatrice alla mano il costo medio di una lezione dal vivo di penoforte è di circa 30 euro l'una senza contare il tempo che investi per andare e tornare da ogni lezione e la benzina che consumi nel caso dovessi andarci in macchina questo significa che se ad esempio vuoi andare a lezione una volta a settimana in 6 mesi spenderesti 780 euro perché 30 euro per 26 settimane uguale 780 euro e molte persone mi hanno scritto di aver speso anche cifre molto più elevate ci sei? poi tenendo conto che quando si prendono lezioni in una scuola di musica tradizionale è necessario acquistare una mole notevole di libri e quaderni pentagrammati e considerando anche tutti i costi per spostarti da casa per andare a lezione in soli 6 mesi spenderesti la bellezza di oltre 1000 euro e invece il corso full and play lo puoi avere oggi alla modica cifra di 147 euro pur avendo di per sé un valore di listino di 447 euro perché se vai a sommare il valore in denaro di ogni singolo contenuto la cifra che verrebbe fuori è quella del prezzo di listino ma torno a ripetere che lo puoi pagare a questo prezzo scontato di 147 euro ed è valido con certezza solo in questo periodo perché potrebbe aumentare da un giorno all'altro senza nessun preavviso quindi qui trovi questo pulsante dove cliccando arriverai alla pagina d'ordine vera e propria che ti permetti di acquistare se eventualmente non puoi acquistare con carta di credito clicca qui e si aprirà questa finestrella all'interno della quale puoi metterci la tua email insomma scrivi qui la tua domanda magari mi puoi scrivere guarda io non riesco a pagare con carta di credito per questo per quel motivo oppure semplicemente non ho carta di credito mi puoi inviare un sistema alternativo di pagamento e vedrai che verrai subito accontentato forse ora ti starei chiedendo qualcosa tipo non è possibile sembra troppo miracoloso sembra troppo facile per essere vero eccetera va bene diciamo che potresti pensarlo ma lascia che prima ti ricordi una cosa come avevo già specificato prima questo metodo non è miracoloso e non è nemmeno adatto a chiunque infatti follow and play richiede un certo livello di impegno rapportato alla difficoltà di apprendere uno strumento musicale come il pianoforte che ti garantisco non è per niente intuitivo tuttavia qualunque decisione tu prenda non riviare a tempo indeterminato la ricerca di una valida soluzione per soddisfare la tua passione inizia a esercitarti il prima possibile per ottenere risultati entro 5-6 giorni molti mi domandano ok sembra tutto bellissimo ma in quanto tempo potrò imparare il pianoforte? per la mia esperienza se ti applichi puoi iniziare a suonare con la sola mano destra dopo soli 5-6 giorni è tanto? è poco? secondo me ci sono pochi strumenti musicali dove puoi imparare un'intera melodia in pochi giorni dipende ovviamente da quanto ti applichi se ci spendi almeno mezz'ora al giorno credo che tu possa suonare un pezzo di musica con entrambe le mani in 5 massimo 6 settimane dipende da te sostanzialmente la cosa più importante però è che inizi rapidamente puoi completare un primo studio del mio corso in meno di una settimana diciamo 5-6 giorni poi ti ci vuole tempo per mettere in pratica testare sperimentare correggere gli errori quanto tempo? secondo me non più di 5-6 settimane ma in ogni caso prima inizi a fare e a sbagliare prima capirai che suonare il pianoforte non è magia e non è fantascienza ma è un traguardo che puoi sicuramente raggiungere anche tu quindi 5-6 i numeri magici 5-6 giorni per imparare la tua prima melodia con la sola mano destra 5-6 settimane per suonare il tuo primo pezzo a due mani 5-6 mesi per assimilare la tecnica e completare tutto il corso questa è l'occasione che viene offerta a chi si vuole avvicinare all'opportunità di imparare il pianoforte in poche settimane perciò non temere di concederti un'altra possibilità fossi anche l'ultima che ti regali pur di non rinunciare alla passione che più ami in questi anni ho letto e fin troppo spesso riletto email di persone che lamentavano il fatto di aver rinviato troppo a lungo il loro sogno di suonare il pianoforte puoi scegliere di dubitare o di pensare che puoi aspettare ancora rischiando altre delusioni e frustrazioni continuando a sentire il vuoto dell'insoddisfazione di un'occasione mancata o di un sogno che viene ancora una volta rimandato o peggio ancora che si infrange magari perché non ci hai creduto abbastanza oppure puoi decidere anche tu di prendere in mano la situazione adesso e di regalarti l'occasione che hai sempre desiderato anche perché non finisce qui c'è dell'altro un esclusivo maggio lancio ecco questa è veramente l'arma segreta del corso following play è una cosa che non dà nessuno ossia il piano seminar online se deciderai anche tu di provare il mio metodo o il tuo mio ideale avrai l'opportunità di partecipare gratuitamente ai miei piano seminar online riservati al gruppo di allievi following play funziona in questo modo ti farò avere accesso ad una sala virtuale in videoconferenza nella quale ti collegherai in diretta con me e con i tuoi compagni di corso e insieme condividerete le vostre esperienze vi confronterete sui problemi che avete riscontrato studiando il pianoforte e in generale parleremo di musica veramente a 360 gradi e non solo potrete pormi domande sulla tecnica pianistica e valutare insieme le soluzioni migliori alle vostre problematiche condivideremo curiosità anche divertenti aneddoti e tutto ciò che riguarda la crescita personale in generale e nella parte finale dell'incontro chi se la sente ed è preparato suona al pianoforte il suo pezzo preferito insomma un'ottima occasione per mettersi alla prova condividendo la propria passione del pianoforte con altre persone e perché no anche per rubare alcuni trucchi del mestiere durante il confronto di gruppo ovviamente non hai l'obbligo di partecipare a questi incontri ma se deciderai di essere dei nostri non può che farci piacere a detta di tutti i clienti l'assistenza e il piano seminar online sono veramente le cose che fanno la differenza nel mio corso follow and play nessuno offre questi supporti e nessun altro corso puoi trovare tutto questo in ogni caso in qui in questo video puoi scoprire le domande e risposte sul corso follow and play è un nuovo video dove ti darò altre informazioni utili perché in pratica sono domande che mi fanno spessissimo tutti coloro che vogliono avviarsi al mondo degli 88 tasti e alla fine vengono in mente sempre i soliti dubbi guarda ormai sono tantissimi anni che sono in questo settore e sento sempre le stesse domande e quindi prendo la palla al balzo per rispondere a queste domande per toglierti dalla testa eventuali dubbi per finire lascia che ti dica un'ultima cosa la musica è qualcosa di meraviglioso goderne appieno tutte le sue intense emozioni sentire quel suono magico che esce dal proprio strumento e vedere che quel suono lo stai producendo proprio tu è qualcosa di straordinariamente bello e appagante la musica è meravigliosa e la capacità di poterla fare è tra i doni più belli che la natura umana ci abbia regalato e questo vale per tutti giovani e anziani perché la musica ti fa crescere ti fortifica ti fa sentire intimamente a contatto con i tuoi stessi sentimenti senza contare che se sei una persona timida la musica diventa la tua più fedele alleata perché ti permette di esprimere agli altri tutto quello che hai tutto quello che senti tutto quello che vorresti cacciare fuori e che non riesci a dire con le parole e quindi fare musica è anche una cura per la tua autostima guarisce la paura di essere costantemente giudicati chiaro? invece se sei una persona espansiva e ti piace stare in compagnia la musica diventa il collante del tuo stare assieme il centro gravitazionale in cui avvicinare i tuoi amici per cantare insieme divertirsi stupire con la tua bravura come una bella serata passata in comitiva perché senza musica c'è il vuoto e tutti noi ci sentiamo più soli colmare una volta per tutte quel senso di vuoto che provi è un tuo diritto è una cosa che meriti profondamente ed è tra le cose più belle sensate che tu possa fare per te solo così ci si potrà sentire fieramente completi e motivati dando più senso alla vita arricchendo il proprio tempo libero puoi iniziare subito a godere di tutte le travolgenti emozioni di una pagante passione come il pianoforte regalandoti ora follow and play puoi farlo per te e per l'amore che hai per la musica altra cosa importante ti ricordo che questo prodotto sarà disponibile subito dopo averlo acquistato lo scarichi sul tuo computer ma anche iphone ipad e qualsiasi altro smartphone o tablet subito dopo aver concluso la semplice transazione di acquisto online non devi attendere la spedizione in quanto questo e lo ripeto è un corso digitale e quindi a casa tua non riceverai nessun pacco nessun cd e compagnia bella è tutto scaricabile istantaneamente da internet a qualsiasi ora del giorno e della notte infine se per caso ti è rimasto qualche dubbio ti segnalo questo banner qui in fondo cliccandoci sopra ti si aprirà una finestrella ecco in pratica è uguale a quella che avevi visto prima solo che quest'altra finestrella è collegata al banner qui in fondo e serve per farmi eventuali domande sul corso Fall Event Play e se per caso hai dei dubbi delle cose che ti sono venute in mente vedrai che ti risponderò nell'arco di 24 ore alle volte ti rispondo anche nell'arco di 5 minuti quando sono online e quando mi arriva subito la tua richiesta stai sicuro che non ti faccio aspettare io ti ringrazio per l'attenzione e concludo dicendoti che quando seguirai il corso Fall Event Play se non capisci qualcosa puoi riguardare il video più volte così metti in pratica progressivamente quello che ti dico di fare tipo quando ti dico metti la mano sulla tastiera in un certo modo oppure ti faccio ascoltare un ritmo musicale da tenere ecco tu non dovrai fare altro che ascoltarmi ed imitarmi il più possibile pertanto ti dico subito che se cerchi una specie di bacchetta magica tale per cui guardi un tutorial e automaticamente in un secondo sei in grado di suonare subito un pezzo a due mani senza spendere un minimo di impegno allora ti dico guarda spegni subito questo video cancella questa pagina e lascia perdere perché il pianoforte non fa per te in quanto questo non è un giochetto ma si tratta di impegnarsi quel tanto che basta per togliersi le soddisfazioni che si vogliono ottenere suonando uno strumento magico come il pianoforte e tutto questo senza spendere centinaia di euro al mese senza perdere tempo e senza prendere mezzi pubblici o la macchina per andare a seguire le lezioni dal vivo e infatti se ti dovessi dare un unico buon motivo per prendere il corso follow and play piuttosto che tantissimi altri corsi che trovi sia in Italia che all'estero è che questo è il primo e finora unico corso completo che ti dà tutto e subito e che ti spiega una volta sola step by step dall'A alla Z tutto quello che devi fare per poter iniziare a imparare il pianoforte ad un livello base anche se non hai mai visto un pianoforte in vita tua poi per carità tu sei liberissimo di spendere molto di più per magari siti ad abbonamenti mensili che ti chiedono almeno 100 euro al mese per stare lì dentro minimo un anno senza che tu abbia imparato niente oppure sei liberissimo di prendere lezioni presso le costose scuole di musica tradizionali invece ecco ci sono altri casi in cui troverai dei corsi per suonare il pianoforte che costano 4 soldi tipo 17 euro 27 euro però sono delle bufale e ti spiego anche subito il perché in quanto all'interno di questi corsi non troverai un sistema step by step che ti prende per mano e ti dice dall'A alla Z quello che devi fare per imparare razionalmente il pianoforte ma ti faranno un'introduzione facendoti una panoramica molto superficiale su come assimilare qualche canzoncina a limite da suonare con una sola mano in pratica sono i tutorial che io do praticamente gratis all'interno del mio sito e poi sempre all'interno di questi corsi che costano 4 soldi troverai dei consigli interessati che diranno ecco ti ho mostrato come imparare Fra Martino con una sola mano se vuoi veramente continuare a imparare allora clicca qui e cliccando sul link che c'è all'interno di questi prodotti verrai rimandato su pagine di altri prodotti tipo Catena di Sant'Antonio dove dovrai comprare altra roba per poter capire esattamente che cosa devi fare oppure verrai mandato su prodotti a cui sono affiliati coloro che ti hanno venduto il primo prodottino quindi insomma è sempre una catena borare della favola chi ci rimette sei tu che magari in totale buona fede avevi comprato un corso sperando che ti desse tutte le informazioni sulla pratica pianistica e invece ti sei ritrovato in mano con un pugno di mosche al contrario ti dico che è vero che questo corso costa 147 euro però qui dentro ci trovi tutto ok insomma spero che questo sia chiaro quindi ritieniti fortunato che ti viene proposta un'opportunità del genere perché puoi fare tutto tranquillamente da solo e veramente con pochissimi mezzi anche perché non è necessario che tu acquisti un ingombrante pianoforte acustico per cominciare ma ti basta un economico piano digitale leggero e trasportabile questa è la grande opportunità dell'elezione online però ecco lo ribadisco c'è comunque da lavorare anche poco ma l'impegno deve essere costante altrimenti i risultati arriveranno a rilento e comunque un conto è procedere alla cieca continuando a sbattere qua e là sui tutorial che trovi su internet oppure facendo di testa tua senza che tu faccia col pianoforte un progresso che sia uno e un conto è invece avere una guida sicura che ti dice passo passo in maniera semplice concreta e pratica quello che devi produrre sulla tastiera dalla A alla Z certo ci vuole impegno energie ci devi credere e devi darti una possibilità cioè devi pensare di poter raggiungere un risultato con impegno e costanza ecco non commettere l'errore di essere discontinuo nell'apprendimento perché gli esercizi vanno appresi con continuità ecco questo te lo dico col cuore in mano perché io senza falsa modestia sono uno che col pianoforte ce l'ha fatta e quindi ogni qual volta in cui puoi incappare in qualche difficoltà rialzati e vai avanti insomma e questo fa parte delle regole del gioco della vita no? perché poi ci saranno quelle vittorie clamorose che ti ripagheranno di tutte quelle sconfitte e il pianoforte come tutte le cose va imparato diciamo che è come andare in bicicletta no? è normale che i primi tempi traballi un po' no? ti sbucci le ginocchia ma poi ecco che ecco che riuscirai a suonare il tuo primo brano preferito anche ad occhi chiusi e comunque se solo se non hai già scaricato il corso gratuito preliminare di tre video dal titolo suona la tua prima melodia puoi andare qui mettere la tua email e il tuo nome e cominciare a muovere i primi passi sul pianoforte non ti costa nulla puoi farlo tranquillamente e in più è gratis buono giusto e salutare e quindi per finire ti voglio citare due bellissimi aforismi di Randy Pausch adesso non importa se sai o non sai chi è Randy Pausch detto in due parole è stato un professore di informatica che ha avuto un cancro è morto purtroppo e sapendo di dover morire ha tenuto un'ultima lezione una bellissima lezione all'università dove insegnava e nell'ambito di questa lezione ha fatto un bellissimo discorso ricco di tante riflessioni di tante massime e io qui te ne voglio citare due ecco questa è la prima la fortuna è quel momento in cui la preparazione incontra l'opportunità la fortuna ce la creiamo da soli chi più sa più vale la seconda invece è questa ogni ostacolo ogni muro di mattoni è lì per un motivo preciso non è lì per escluderci da qualcosa ma per offrirci la possibilità di dimostrare in che misura ci teniamo i muri di mattoni sono lì per fermare le persone che non hanno abbastanza voglia di superarlo sono lì per fermare gli altri ok direi che è veramente tutto ti ringrazio per la tua pazienza per essermi stato a sentire e ti auguro il meglio e soprattutto ti auguro dei grandi concerti a pianoforte